potete guardare i numeri che fai prima? eh sì, ma perché adesso i numeri non li vado a fare no, si aspetta la bella laterale, sulla ruota davanti, sulla panale davanti come questa! ma stazione c'è un'esprechacio che siaxi offrire no, ma sono scoperta non, 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 non non, non, non non, 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 non ne fa sfahren non, 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 non